Ciao a tutti, un saluto da Bernardo Musso, capitano della consulta Invespesa. Vi aspettiamo domenica su www.megabasket.it. Registratevi e guardate le trasmissioni di serie A con live, dalle 18. Ciao! Ciao a tutti, un saluto da Bernardo Musso, capitano della consulta Invespesa. Vi aspettiamo domenica su www.megabasket.it. Un saluto da Bernardo Musso, capitano della consulta Invespesa. Vi aspettiamo questa domenica. Viste che di che io te lo detero...